salve amici e ben ritrovati sul canale di margine oggi vi proponiamo la ricetta dei biscotti da inzuppo senza ammoniaca gli ingredienti sono 250 grammi di farina 00 100 grammi di zucchero semolato 100 grammi di burro a temperatura ambiente un uovo intero 50 ml di latte 12 grammi di lievito per dolci ed una bustina di vanillina uniamo alla farina tutti gli ingredienti ad eccezione del latte quindi zucchero lievito per dolci vanillina mescoliamo leggermente aggiungiamo burro e l'uovo dopo aver incorporato accuratamente il burro integriamo il latte un po alla volta abbiamo lavorato tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto ben morbido ora lo avvolgiamo in un foglio di pellicola trasparente e lo mettiamo in frigo per 30 minuti trascorso il tempo di riposo riprendiamo il panetto e lo stendiamo realizzando una sfoglia alta circa un centimetro con una formina ricaviamo i biscotti posizioniamo i biscotti su una leccarda rivestita con carta forno ed inforniamo in forno caldo a 180 gradi per circa 15 20 minuti ed ecco i nostri biscotti da inzuppo senza ammoniaca appena sfornati ebbene amici con questo breve video margi vi saluta e vi aspetta sul sito www.passionericettedimargi.com e sulla pagina facebook ricette di cucina alla prossima